Sono Federico Cappuccini, un studiante di Erasmus Plus nella Università Isabel Primera di Spagna e sono di grado in CAF. Sono Marco Carlucci, un studiante di Erasmus Plus nella Università Isabel Primera in grado CAF. La Università Isabel Primera di Spagna e Coruña, due anni fa. In mio caso, ho studiato spagnolo alla scuola. Mi piace molto la Spagna e così volevo tornare. Il programma Erasmus era una buona opportunità. Perché Spagna è un paese che mi piace molto e che mi piace molto. E ho desiderato di venire qui. Bilbao, Madrid, mi piace di vedere Barcellona e anche Pamplona. Màlaga, Granada, Gimilterra, un po' di Spagna. Bilbao, perché è molto vicino. San Sebastiano, Madrid, Barcelona sono la città più conosciata. E per me e per il mio desiderio è Màlaga. Perché mi dicono che Màlaga è una città molto simile a la mia città in Italia, Lecce. Non ho una risposta a questa domanda. Perché ho venuto qui per studiare i miei materi di scuola in Italia in spagnolo. perché ho sapato meglio anche in spagnolo in spagnolo. E prima di imparare molto la lingua. Perché il mio spagnolo è molto di scuola. Ho deciso di migliorare. Grazie a tutti